Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo episodio di Dungeon 4. Cominciamo subito. Bene, partiamo subito, ragazzi, quali sono gli obiettivi classici? Ovvero, completa la missione, impedisce a Thanos di ottenere più di simili malvagità, tortura almeno 20 eroi, mentre l'obiettivo per poter ottenere il potenziamento, una nuova abilità è, assicuro di etichettarlo se non distruggono alcune creature del bene. Bene, quindi è subito di iniziare. Come settaggi credo ai non morti, che sono interessi che hanno già visto la missione, credo che utilizzano, insomma, cerco di puntare molto più sui non morti, i demoni. Mi tengo sempre lo sconto, in realtà, dell'arbitra su Talia, che personalmente ritengo che sia molto buono. Ora, questa è una missione, definiamola, divertente, metaforicamente parlando, in realtà sarà casinatissima, più che altro per riuscire a seguire tutte le missioni, motivo per cui non è detto che... è traggio che questo posto di buono deve essere distruttato, ma ho bisogno che il risultato risultato risultato, per riuscire il risultato. Questo è l'unico modo che posso distruttare il vero assoluto! Tannos ha ovviamente misplato alcuni di loro marghi. Il marauditato nel paese, commettere i buoni, in modo per riuscire il buono. Io ho davvero questa cosa di già vu, molto forte, vibra di terzo. Ma bene, ho ho il spear per il cuore il cuore, e questa volta ha freddo barbato. Nonostante, il vero assoluto ha dovuto reagire. Il Tanos, trattato con il vero, era un terribile obiettivo. Per il buono del mondo, ha dovuto essere trattato e fermato. Quindi noi stiamo cercando di riuscire il vero assoluto? Sì, è come si sembra. Oh, sì, count me in. Quindi noi facciamo quello che i ragazzi facciano, e stiamo a mettere il mio profondo in questo processo. Certo, qualcosa di più utile può essere fatto con il vero assoluto, ma prima, Talia ha dovuto agire più di Tanos. Ok, andiamo fuori e iniziare a fare le tue vede, così che possiamo stoppare il mio nonno di vado di fare le tue vede. Per il vado! O per il buono! Oh... Inoltre ho perduto il plotto da un'altra parte. Inoltre, creature! Ciao! Bene. Ora riprendiamo subito. Come hai detto, è una missione abbastanza complicata, perché il nostro obiettivo principale sarà quello di impidire a Thanos, o lui, tende a distruggere dei vari accampamenti e dei buoni. Nonché, questa cosa migliore, quando poi spawneranno qui e qui, anche i due tizi del bene. Inizialmente, sì. Le due creature del bene. Quindi, in realtà, avendo già visto la missione... Allora, io so, qui c'è il loro, quello che sono interessato a recuperare. Cosa del genere. Qui, faremo l'ingresso della prigione. Qui metteremo poi i non morti. Poi, 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 poi. Tanto, in realtà ci saranno anche perché, per torturare gli eroi, ovviamente, saranno i non morti. Allora, succube. Quasi obbligatorio sbloccarla. Perché succubi hanno una bellissima abilità che consiste nel far sì che i nemici si... si attaccino tra di loro. Così, rendiamo alleati, temporaneamente, quindi, per alcuni nemici. Allora, qui ci sarà il mana. Mettiamo a questo lato. Metteremo la zona per produrre le casse. Quindi, reclutiamo una seconda succube. Questo è scoperto dal tasto. Allora, riuscire fuori, appena abbiamo reclutato anche... un non morto. Un non morto, appunto ci torneremo tutti. Allora, se non sbaglio, qui giù, dovrebbe essere circa... dovremmo incontrare una stanza sotterranea. Lo stesso, qua. C'è una cosa così. Allora, di qui ci sono gli amanti. Non posso farvelo ancora vedere, perché, in realtà, voi non vedete. E a volte a essere gli amanti, visto che c'è mai una gioia, c'è anche un... un nido di elementari del fuoco. Quindi, bisogna stare particolarmente attenti. E se fosse poi, ancora queste parti, di qui, ci vorrebbe essere anche un reliquio che è da attacchini. Non fate chissà quali domande. Allora. che serve tesoro? No. Sto sbagliando. Mega peggio di schiaffoni. Sì, di schiaffoni. Le raccogliete. 800 d'oro solo. Male. Lo mettiamola qui, e le raccogliamo un... due basci. Ho il mio obiettivo, in realtà, di avere nell'immediato si fa per dire. Ah, tra l'altro che si scavati di 4, l'attacco ai diragni. Giusto perché ho già fatto un po'... ... Allora, attaccheremo subito. Ok. Così. avremmo già tutti la prigione, dunque non ce l'abbiamo ancora. No. Questo mi serve comunque la ricerca. Pai day. Creatures are collecting their pay. Allora, cosa noi potrò fare... ... ... ... ... ... faceconomENE per cui... ... 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 Ecco, sto scavando... Si, ci siamo messi benissimo, ma non è messo. Non dico a te come il sondaggio, in gara. Quindi, in realtà, Princi di Soltano si attaccherà sempre, come prima, questa qua dietro. E gli altri eroi lo attaccheranno. Cioè, lui sarà seguito a lui. Deve letto stilette a loro eroi, o, in loro absence, a loro snotte in una cortina. Per percibare il potere creata, il torturante brano decidì creare di creare in una cortina. Percibare i eroi un cappon. Cosa è? Cosa? Tenos dispatched i rimanei figli. Oggi, di rinno! Oggi, di rinno! E, di rinno, di rinno! Tenos dispatched his remaining faithful towards the dungeon. From this point on, heroes would attack the underground. No problem, that's basically extra evilness delivered free to my door. Right, clean your weapons, oil your traps, and prepare the Meteor Spell. Ah, I feel how the evilness strengthens my powers of good. Wonderful! Tenos had captured a fair amount of evilness. The planning evil could try to stop him temporarily by having its creatures engage him in a fight. Ha, brilliant idea. I'm sure I would have thought of that too. Forward creatures, into battle! Not all of you will survive, but that is a price I'm willing to pay. The absolute evil had bagged some magnificent evilness. It was important to gain more of it than Tenos. The heroes' buildings presented themselves as high yield alternatives. Perfecto, lo ci sono anche attaccando dentro. Tra l'altro qui sarà, letteralmente, il nostro compito fare terra bruciata eh. Questo è buono perchè ci servire in futuro. Cavali di Skerb, perfetto, non doi recuperare la nostra prima linea. Si può recuperare non sarà neanche italiano. Questi diventeranno la nostra prima linea loro. Vai, 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 vai. Ok, torniamo dietro. Ehm, puoi sbloccare questo? Mi ci vuole 175. Mettiamo un po' di gente. Così anche loro faranno un po' dello sporco lavoro. Appena avremmo abbastanza malvagità, dovremmo sbloccare uno, due e tre. Consigente di immaginità ce la dovremmo fare. Quindi il nostro prossimo obiettivo sarà... Ovviamente uno di questi due qua. O tre. Potenzialmente facciamo un giro qui. Andiamo a distruggere questo. E qui ci siamo trovati. E qui ci siamo trovati. Ehm, non so, siamo abbastanza forti. Potremmo sapere un po'. Allora, abbiamo fatto tutto quello. Quindi prendiamo loro. E andiamo a attaccare da sotto. Precisa, abbiamo già detto. Lui attaccherà Tano, si attaccherà chiunque. Inclusi loro. Quindi se andiamo di qui e andiamo a far fuori tutti. Meglio per noi. Anche riducendo in realtà lo teniamo un po' di malvagità. Vediamo sempre meno di quanto facciamo fuori i torri. Qua c'è... Questa qui ed è gravissima. Credi di... No. Qui qua. Quella torre non mi piace, ecco. Voglio evitare per il momento le torri. Allora, diciamoci... Fuori fuori. Quante botte si è preso? Non c'è, anzi c'era quello che non c'è. Allora, facciamo da fuori loro. Quindi otteniamo un piccolo... E' payday. Potremmo di una parola a piccolo vantaggio. Qui. Possiamo fare questo... Sì, non può sfumare. Però va bene. Allora... Allora... Questa ci vuole ancora. 570. Con le notei. No, che vuole dare le baci. Vediamo subito qua che è il più... ...immediato diciamo. Allora... Che ne puoi portare qui? Ci aiuterà perché... Così bisogna andare subito qua. Subito qua appena spavano. Ha! Vedete come è stato fatto, Thanos? Sono sicuro che il giorno che Talia... Snatcha un camp da giù sotto il tuo naso... E' stato un giorno significativo nella tua vita. Ma per me... E' solo domani. Io ci penso che l'ho messo... Questa stanza qui. Qua ci facciamo un po' correre dove loro balleranno. E' al limite poi qui dove... Andiamo ad ampliare. Allora... Qui evitiamo ancora un po' di spaccare. Per avere un che sia. Allora... Fortunatamente sta venendo estratto. Abbiamo distrutto tutto. Possiamo sbloccare uno. Poi ragazzi vuole spero puntare alla... Ah, non bisogna... Non bisogna giocare al banilbana? Shit. Non abbiamo le risorse altrimenti con il banilbana. Che è estremamente male. Uno. Due. Tre. Quattro. Poi voglio giocare alla morte. Uno e due. Loro qui non ha senso. Sontro qui. Sontro qui. Sontro qui. E poi qua. Qui per il momento evitiamo. Ok. Quattro è un bene che ripudiamo anche le zone. Allora in realtà se non lasciamo cadere... Abbiamo anche le zone di qui. Interessante. Questo cambia tutto. Questo cambia tutto. Questo cambia letteralmente tutto. Se riusciamo ad avere fonte stabile di denaro... Ci manca solo più dopo una fonte stabile di denaro digitale. Ecco. Quattro. Allora. Allora. Iniziamo. Non posso già sbloccare la magia. La risposta è no. Quindi aggruppatevi. Torniamo a meditare mentre cuore il dungeon. Così facciamo fuori questi ucchi. Si diventano troppo forti. Insomma. Meglio di fare un ucchi. E non... Non mi aspetta che ci fosse qua. Al fianco il... Portale. Allora. Più il botto. In questa si. Allora. Per poter sbloccare la magia ci serve l'oro. Che attualmente è quello che diciamo che è lì. Ok. Così abbiamo le magie. Almeno quella... Per i portali. Che dovremmo poter... Che ci stanno attaccando. Mmm. Ma questo è fondamentale. Soprattutto almeno un livello. Che mi costa... Oro. Andiamo, 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 andiamo. Per esserci a 500. No. Non dobbiamo fare le super 6.000 quindi. Allora. Volendo possiamo... 300. Possiamo... 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 Inche noi arriviamo al livello 4. Siamo fregati della grandezza della... Possiamo arrivare al livello 4. All'altro. Tutto qua. Questo qui tanto deve confinare sempre col bana. Quindi... Facciamo una roba... Bomi... È troppo grande. Facciamo una roba del genere. Chiudiamo. Piccolo, piccolo. Prendiamo. Porta, porta. Porta. In questo modo magari riusciamo a tenere anche un pochino più di mana. Allora. Tanto dobbiamo andare da sotto quindi. Fleghiamo a Thanos. È uno dei più semplici da riuscire a fare. Payday. Qua. Questo è già andando di attacco, sì. Troppo lenti siamo stati. Quindi non ha senso mandare alla carica. Non siamo. Pensiamo su due non morti. Questo metolo qui, no. Grazie. Che. Allora. Grazie. Già, su questo che vuole tutto. E se la riuscire, non? Che ci sono. Allora. Che è tutto quello che vuole tutto. Allora. 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 Ok, è già comparso l'unicorno che sarà quello in cui punteremo immediatamente a ocoparci A few stalwart heroes said about rebuilding the destroyed buildings that's monstrous we have to stop them forward creatures stop them at all costs what that plan scrub the floors with soap to make them slip and fall come detto se riusciamo così in un portale qua così per favore ne possiamo totalmente andare a fare allora intanto dobbiamo andare a scavare più veloci abbiamo dell'oro in giro la risposta è da non abbiamo oro in giro allora vediamo un po' o lui attaccherà tanto l'unicorno fra due minuti se non sbaglio tre minuti in realtà ho visto che se non c'è uno scoffiglio subito di sicura rendendo di fatto inutile attaccalo per ventimamente forza pietro l'oro forza pietro l'oro scuola vediamo un demon antipareva problema che non ho la mano l'oro mi manca solo quindi appena ce l'avrò prendiamo il muro subito fuori così accettiamo questo e ci dirigiamo dopo subito qua qua quindi l'attacco allora l'oro qui si l'oro il mano quindi abbiamo un bel po' l'oro 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 è ok 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 la forza non è no hey Thanos see that food shipment for starving families there I put the torch to that one before your decomposing brain even noticed it just you wait the next shipment will be mine oh signore ragazzi avevo detto che è estremamente difficile uscire a fare ok lo sta attaccando ma non lo sta uccidendo che non lo sta ancora uccidendo ecco allora se noi non ti riusciamo a uccidere lui mi sto uccidendo anche io un dubbio più che legittimo ecco all'oltre possiamo no perché stanno attaccando no nooo nooo I'll be back the merciless evil zombies rushed into battle with the unicorn to earn some splendid evilness problemo che avevano targettato tutti ok, loro fortunatamente combattono con gli altri quindi siamo fortunati riusciamo a prendercelo noi eeeh nemico ecco si richiede molto a Talia si può sboccare magia quindi vai di principe infernale dimmi che riusciamo a fare una kill ha! e una volta Talia save the day mi chiedo dico 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 c'è dico 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 Questo non è il modo della luce, invece, sei stato seduto dalla scuola. Da che io ero che ti ha scoperto su questo mondo, è il mio obiettivo per te stoppare. Oh, è stato non esperto. Tristan ora sembra di cambiare le parti, per chiedere il suo vile step-sistero in stoppare il suo più evo padre. Tristan, tu traitor. Tu hai scoperto da luce. Just like your sister, I will destroy you both. Zitano so come sempre la sua personale visione del mondo. Mettiamoli in maniera semplicista. Posso investire qualcosa in questo? Mi manca l'oro, adesso ho in questo preciso momento. Non è male. Il suo vile è sotto attacco. Veloci. Qua ne sei ancora tutti quanti vivi. Lasciali. L'unica. Appena riescono a fare altro oro. Quattrocento di mana. Lasciala veloce. L'unica riesco almeno a far fuori l'oro. Allora, sub è un minimo aiutato. Allora, sub è un minimo almeno a far fuori l'oro perché sono fermati. Ah, è solo un paio che sta fattando. Figo. Ehm, che figo questa cosa. Ok, diciamo che tra molte virgolette ce la stanno totalmente calata. Ehm, dobbiamo riportare solitamente a vita le nostre unità. Allora, cosa aumentare immediatamente? Abbiamo bisogno di più oro. 1200. Siamo per riuscire a portare questo al tre. E' un segno di non farcela. Così aumentare la velocità di estrazione del oro. Allora, abbiamo visto un portale, noi. E' un'idea di usarlo, no? Prendiamo e... Prendiamo e inviamoli qui. No, ce la sto facendo, eh. Non ci sono eroi. Ah. No, non ci sarai mai vado a me. Me, I must withdraw. But today is not the end of days. I shall return. Light be praised. And be you certain, this is clear. The light will prevail. Be of cheer! Ok. Your stupid rhyming isn't gonna get you anywhere either, old white man. Your time is up. I will triumph. Thanos has been stopped. I will return should he again attack innocent people. The merciless evil armies rushed into battle with the hypno bullfrog to earn some wondrous evilness. Vai, spawno. Vai, spawno. Spawno. Eeeh. Mi metto incantesimo insurizio. Vai, piccolo scherzo. Vai, piccolo scherzo. Vai, piccolo scherzo. Magino vampiro. Che senza idee non abbiamo pure efficace. Un po' di fuoco. Non so in realtà quanto lo amico faccio. Ok. Non è l'unicantesimo due volte. Quindi sicuramente mai il fa. Aumenta la porta dei biometri. Aumenta la punire la punire al fuoco. Aumenta la punire la punire al fuoco. Aumenta la punire a distanza. Buono. Aumenta la punire al fuoco. Aumenta la punire al fuoco. Ahah. Talia, tu spazzita piccola bianca. Questo sarà il fine di te. Sì, quindi ok. Era bugato il... La costruzione. Ecco. Nel level 1 da qua sopra fa 14 minuti. Allora, come ora ci siamo messi... Naturalmente è abbastanza bene. Per i giovani così quando ci attaccano. Possiamo farmare un po' di malvagità anche da qua. E io ho speso tanto loro che non devo spendere. Un attimo ci conseguiamo di 19. Qui fa poco. Ok, abbiamo bisogno di questi giunti non solo. Possiamo prendere le nostre unità. E le mandiamo subito all'attacco. Allora, come le tassi, questa è una missione bella lunga anche. Di cui ora che in realtà abbiamo una fonte sta di minuto. It's payday! Allora, serve il livello a fazione. Formentiamo di 1 almeno le dimostri cose. Perchè fin tanto ci sono da intercettare l'altra la costruzione, non vedo ancora. Ci sono più tocchini. Pervedibile. E' tornata. E' tornata. La mia absenza è stata corta. E' tornata completamente lunga. E' potrei prendere completamente il confronto e della scena. livello quindi andiamo qua però che spero avrei avuto i miei di Taurus allora abbiamo questi enormi problemi di pulizia perché ora ragazzi si produrrà non sono venuto sta ben utilizzato la matura degli schetti qui ci sta un numero di persone lì Talia e l'Evil hanno distruttato un avvento prima che Tannos si è arrivato a lì Stanno sapendo leggere e scrivere Lui c'è qua Visto che già lì probabilmente non ha intenzione di attaccarlo Ci sta venendo gente di attaccarlo Il vostro portal è sotto attacco Ok andate Allora potenziamenti belli Mi chiedono molti la fazione Quanto io ho assolutamente potenziato Questo portal al 4 Così abbiamo lui E abbiamo anche così No quello al 5 Perché vedete ieri il fantasma Non è una cattiva idea Non è un incantesimo Ok andiamo qui Portalo anche questo al 4 Non è un altro momento Non è proprio qualcosa di più Che ti fa Andiamo su Ok Ok Tra l'altro abbiamo Un'altra Infatti in questo modo Sono riusciti a eliminare il Il numero di eroi più grosso Quello più forte Allora abbiamo un altro costruttore Che dobbiamo andare a intercettare Ok Per te mi servi sempre malvagità C'è dell'oro Lui impediamo La costruzione Andiamo a uscire il tizio Uccide il tizio Va Appena loro avranno finito di giocare Lui per l'ospa è tornato a metterlo Ok Dov'è il nostro amico? Quaggiù Ok La rabbia grazie Abbiamo 145 Poter incrementare il numero di Spaziare su interno Ok Senza pallo Così possiamo avere anche Morti più potenti Il portale Tanto per cambiare Ce l'hanno distrutto Andiamo subito a farci L'unicorno Non voglio dire che domani Sì Dei nomi che non si è portati Sì Sono 30 minuti Sono 30 minuti di lag Ok E andate qui All'attacco Qui sta No Non so dove Qua sono già in tippine E andiamo Ok qua Sono sta combattendo contro lui Che buono Ehm Questa porta poco io Quella sua abilità Si attaccate Ah sono straviglio Quanto lo vi serve esattamente Su Siamo Quanto è la nostra Questa è la nostra Vuoi intanto pensare Dare l'ordine Di spostarsi Non so già che è inutile Tutti incontesi Mi scuso Sì Eccomi il principio di farnagio Ci siamo Anche questo Non riusciamo a diventarlo Un po' Allora Potenziamenti Niente La salva della balla Per il momento Ci sta consumando Tutto quanto Ok Che ho finito Niente Quattro Quattro Cinque Sì 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 Ho bisogno Di malvagità E ora Incrementare Sì 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 È un po' Il tuo portale demonico è sotto attacco. Questo è abbastanza innegabile, velocemente, ma qui sono ancora 6 oro, potenzialmente buoni, e non scivino, se lo possono sbloccare lì, non sarebbe bene. Mettiamolo in termini semplicistici. Quindi mi sta costando un sacco per il mio solizio. Mettiamo le efficienze, battiamo in vita i demoni, costa 5,290 ml, vediamo i demoni, e poi il combattimento si dice, ok. Tutta roba molto buona. Che dite come Thanos? C'è un sacco di maledità. Il pernicious evil aveva già collezionato un quarto dell'evilità. Una vittoria su Tenos era in grado. Il buono che ha giocato l'evilità, ha giocato un buono che ha giocato l'evilità prima che Tenos abbia avuto la mano. Allora, tu mi porti, mi sei simpatico. Poi limitiamo il costo, incrementiamo anche te, incrementiamo, incrementiamo. Poi i morti stanno riprendendo, possono già portare al 2, manca solo del loro. E' il payday! Possiamo fare uno scherzetto. Ah, ma c'è un mago dello speriore. E' l'ho ucciso? Sì! Complimenti! Allora, rifinzione del basso... Eh... Se l'ho tentato, mettere l'efficienza al 50% Sarebbe tanta roba. Un'avvittura portata Un'avvittura con i livelli... Se riescono a sbloccare le sue abilità Schifo, vedrete che non fa. Noi ti commentiamovi, visto che abbiamo un'avvittura ben presto attaccheremo anche lui pian piano sta arrivando chissà se lui lo attacca o lo vediamo sarebbe sia una cosa buona che una cosa cattiva o che lo attacca allora come siamo messi stiamo rimutando niente vediamo tutti più che altro ci lo sto lasciando fare perché voglio vedere una cosa che è se lui prende i 300 punti di malagità è rischiosa eh però se siete interessati anche voi in futuro almeno sapete quindi voi andate lo scuro posso metterlo posso potenziare questo qua ok facciamo così dai the merciless evil's armies rushed into battle with the hypno bullfrog to earn some wondrous evilness lo scudo allora vediamo un pochettino tutto ciò è quello che ti devi fare tutti possiamo fare così avrei anche un piccolo bonus un'unità di disposizione te per te c'è 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 quante dicevo esattamente ancora? Talia, tu sbagliato piccolo uomo! Questo sarà l'ultimo di te! Ok, anche se non intercettiamo noi... ...dove sta andando? Ok, non è lui. Sta solo seguendo la strada del coso. Quindi prendiamo l'oro... Il dubbio è il fatto che stiamo facendo un conflitto un po' poco umano. Ah, chi ne sei? Vabbè decisamente ho potuto investire in... Il problema è che qua dentro c'è gente della frutta. Ok, buon perdono. Allora, almeno un altro forse... Mentre il dubbio devo farlo, ecco. Perché per produrre lo sono producendo, però è che se non funzionano sempre. Allora, noi siamo già un terzo. Che cosa buona! Il problema è che noi siamo qui un terzo. ... Eh, la mia domanda è dove vuole andare lui ora. Allora, il costituto è partire da qua sopra. E si dirigerà probabilmente uno di questi due. ... 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